Ciao a tutti, siamo sul canale di Tha Channel, non so se questo video uscirà mai perché è andata in vigore la legge sul copyright, nel caso, carico solo la intro nel caso, sappiate che stiamo per vedere i video del debutto di Gi-Hun. Ma è solo 4 minuti e 49. Seguite gli errori che poi stanno su questo canale. Smettere di farlo scopo. Ok, ok, silenzio. Ma silenzio cosa? Si, si va a morire. Che? Ma dov'è girato? Non lo so, però non so andare in Europa. Non penso. Non penso. Non penso. Non penso. Alla zoomazione. Alla zoomazione. C ballata. Oh, se non asigni. Sì, sì, sì. No, è senza! Alla senza! È così! E... non è... E... E questo? Oh! 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 Non è un fio! Che figa Che paura Ho sottato un po' le regina Oh! Che cosa è quella? Aspetta l'ho visto male Ma è una regina? Per le salzate! E' meglio C'è una diamine di retina un po' per te La regina? Oh maybe! Sì! E' un carino Una mare che c'ha a terra Ma è una cosa Bellissima Ma è un po' E' un po' Sta da solo Ah no Si è drogato Ok, ricevevo E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Beh, per me andavo se li vengono la C'è E' un po' E' un po' Abbia Età E' un po' Si parla E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' anno ma stai in quale trae oh ti will guarda le gambe ma snaccarezzare pioni è ambiguo no la cultura ragazzi è importante personalizzate ahhhh ma la faccio adammatare la faccio adammatare nooo lansò la faccio adammatare la faccio adammatare ahahah in livello questa è la via ah si E questo è un bacio maledetto? Lui baci di rose ma poi mi scompaio Basta! Ok, tipo il principe maledetto? Beh, ci sarebbe? Sì, sì Il principe di rose Che bel concept vado Aspetta Ancora un minuto Che è? Che cosa è? Che cos'è esattamente? Adesso ci guadiamo se ci fanno passare Ho fine video per morire Ma cos'è? E' esattamente di grazia Non è uno spoiler Ma che bimbi? Ma cosa? Ah! E' il finale! Ma penso sia un'altra canzone dell'altro Penso di sì Sponsor? Sì Veramente è tutto Per la necessità di chiedere lo sponsor a G1 E ci sembra da quanto pare Si è pure la zamba E' la mano rossa Che carino E' perfino E' perfino E' perfino C'è lo show case E' perchè non ce lo vediamo lo show case? Avevamo fatto 3 e avevamo fatto 31 no? E' quindi Ahahahahah Pensa un po' Ahahah Cosa? Perchè? Perchè? No, 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 no Non si fa Si fa di così Si fa di così Si fa di così Si fa di mettere più da andare a tempo con tutti Ok? Si fa di così Si fa di così Si 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 Ma qui c'è più po' grande no? Meglio Meglio questa Lascia usare Meglio questa Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Eh, misslla Be' papaloni abbiamo Non stanno capiscono Non sanno potuto Noo Chi li ha mai guardati? Chi ha mai guardato la parte di sotto del portone C1 ? Nooo Alla parte di sotto? Di sotto? Io pensavo che... Finisse con questo! Oddio cosa sto guardando! Non lo faccio! È abbastanza evidente, voglio dire! Allora, vi provate un po' che va! Cosa non lo so? Siamo... Casper! E che casper? Sì, decine, decine! Ok? È bella! È bella! È bella! Non so non si può fare la sua parte! Sì! Non come anche quando è necessario! Sì! È bella! 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 Sì, sì. È la mia canzone di sei. Perché mi fa pensare che sarà più bella perché... Mi fa farlo solo in giro. No. No, 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 no! Qualcosa? Ma cosa? Ricorda questa, con l'azione. E' da domanda con un'opzione. Ovviamente. Lui è il nuovo al favore. E' da lui che è cominciato tutta la leggera del nuovo amore. E' un lavoro importante. E' un lavoro importante. Sì, sì. Oddio! Oddio! Basta! Ma ti pare? Ma che facci so? Basta, siediti! 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 Oh! Siediti così! Siediti! C'è, ma ti pare! Si è seduto comodamente. E' un falso. Allora, io saluto la gente. Saluto qua. La gente. E taglierò questo pezzo. Taglieremo questo pezzo. Vabbè. E che caso spiega lo metto qua? No, quello di prima. Quello di prima. Niente. Saluto tutti e... Ci vediamo... Ci vediamo? No, ho detto che dovevo fare un'altra reaction. Ah, poi Pentagon. Sempre se non gli strike tutto il canale con... La legge del copyright. La legge del copyright. Nessuno è salvo. Già. Moriremo tutti. Io già lo so. Almeno lei è già morta adesso. Ciao! Bye bye! Ciao!